Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente tornano i preferiti del mese. Lo scorso mese, quindi i preferiti di luglio, non ci sono stati perché veramente ve ne parlerò. È stato un mese impegnatissimo, incasinatissimo, con mille cose da fare. Quindi oggi vi parlerò dei preferiti del mese di agosto, che praticamente sta giungendo al termine. Oggi è il 31 agosto e questo video voi lo vedrete sicuramente a settembre. Quindi buon inizio, buon settembre. Per me è sempre stato un mese bellissimo, anche solo per l'atmosfera che c'è, che si respira. Purtroppo non mi tocca più scegliere diari per la scuola, cosa che io adoravo fare, ma potete immaginarlo. E prima di iniziare con i preferiti di agosto, voglio comunicarvi che ci sono due regalini per voi, che ho realizzato io, con le mie manine. Un calendario stampabile e uno sfondo per il cellulare. Il calendario stampabile è questo qui, è in formato A4 e io lo apprenderò dietro il mio computer, ma si può tenere anche sulla scrivania. E poi lo sfondo per il cellulare, sempre a tema settembre, coordinato con il calendario, che io ho già impostato. Quante notifiche sono? Dio mio. Che io ho già impostato, voi non vedrete assolutamente niente, però. I link per scaricare questi file li trovate nell'infobox del Play With Me di settembre. Quindi vi lascio il link del video sia nelle schede che nell'infobox. Andate a controllare l'infobox di quel video, trovate i due link diretti per scaricare gratuitamente queste due cosine. Fatemi sapere se li scaricate, se vi piacciono, mandatemi una storia su Instagram, un messaggio, mi farebbe moltissimo piacere vedere come li usate. E fatemi anche sapere, soprattutto, se vi piacerebbe l'idea di avere queste due cose ogni mese. Quindi se questo piccolo progetto andasse avanti per i mesi a venire. Ma, tornando al video, cominciamo con la canzone preferita del mese. Allora, questo mese non ho ascoltato per niente musica, a parte le musiche che ho dovuto usare per un filmino di un matrimonio che ho dovuto montare. E grazie a questa coppia ho scoperto Canto della Terra di Bocelli, che non conoscevo ed è una canzone bellissima, solenne, emozionante. Emozionante, ve la consiglio. Ovviamente non è la solita canzone che vi ascoltate quando state al mare, però è molto molto bella. Per poi passare tutto il mese con musiche molto molto da matrimonio, no? Poi qualche giorno fa è uscita la nuova canzone di Taylor Swift. C'è stato un polverone dietro questa canzone, per motivi loro, lei ha litigato con Katie Perry, insomma, problemi da VIP. E quindi mi sono detta ascoltiamola, vediamo di cosa parlano tutti. E sono entrate in fissa. Praticamente la canzone, se non l'avete ancora ascoltata, ma dubito, si chiama Look What You Make Me Do. E il video è molto molto carino. Mi piace il ritmo, mi piace quello che dice. È molto diversa dalle canzoni che si sentono in giro ultimamente. E soprattutto è un po' trash. E sapete che io ho un verbole per il trash. Andando avanti, passiamo ai film barra serie tv. Allora, ci sarebbe da fare un video dedicato a questa cosa per tutte le serie tv che ho visto in questi mesi. Allora, voglio spendere due parole, giusto due due parole, per la fine di Orphan Black. Allora, ho amato tutto. L'ultima stagione non mi è piaciuta, perché l'ho trovata molto molto lenta, non si capiva dove dovessero andare a parare, avevo paura che non si chiudesse il cerchio, che non rispondessero a tutti gli interrogativi che avevano, diciamo, aperto nel corso della serie. E invece l'ultima puntata è stata perfetta. La degna fine per una serie tv come quella. Io, se non l'avete ancora vista, ve la consiglio nuovamente. Guardatela, è benissima. Ve ne ho parlato in qualche preferitina fa. Poi ho guardato a luglio, ma voglio assolutamente parlarvene. Orange is the New Black. Che figata è questa serie? Allora, io, come al solito, ero l'unica a non averla ancora vista. Mi ha incuriosito perché non avevo nulla da guardare su Netflix e mi sono detta ne parlano tutti, ne ho sempre sentito parlare. Proviamo. È bellissima, veramente. Sono entrata in fissa. In pratica si svolge in un carcere femminile. Man mano veniamo a scoprire le storie appartenenti a queste detenute. Storie forti, storie che a volte fanno piangere, a volte fanno ridere. Ho pianto tantissimo, anche quando qualcuna ci ha lasciato. Non faccio spoiler. Veramente, è una serie TV che merita tanto. È prodotta da Netflix, quindi la trovate lì. Passiamo poi alla serie che ho guardato per tutto agosto. E chi ha, diciamo, salvato quest'estate che non è stata proprio delle migliori? Game of Thrones. Che devo dirvi su Game of Thrones? Allora, non vi starò a parlare di trama perché è molto molto difficile riassumerla e soprattutto credo che tutto il mondo conosca Game of Thrones anche se non l'ha mai guardata. Avevano poco tempo per realizzare questa stagione e c'erano un sacco di cose da spiegare. Non capisco come abbiano potuto dire alcune persone che sia stata una stagione scontata perché ragazzi, la storia è quella e ci sono alcune cose che vanno spiegate anche se noi le avevamo capite qualche stagione fa. Io l'ho preferita a tante altre stagioni. Sono anche andata in fissa con tutte le musiche utilizzate nella settima stagione che trovate su Spotify. Poi ho fatto anche la mia buona azione dell'anno ovvero ho fatto entrare in fissa mia madre e mio fratello con Game of Thrones. Quindi Karma, dove sei? Ripagami, grazie. Quindi a parte gli scherzi con loro sto facendo un rewatch della serie e devo dire che riguardarla è molto molto utile perché succedono un sacco di cose in questa serie tv ci sono un sacco di personaggi e il più delle volte se non stai attento tendi a dimenticare cose. Quindi questo rewatch mi sta facendo apprezzare ancora di più questa serie che credo sia una delle serie migliori mai esistite. Se vi piace il genere fantasy ma anche no perché io ero molto 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 scettica perché non è un genere che a me piace né nei libri né nelle serie tv né nei film però appunto ho cominciato a guardarla l'anno scorso credo sì e me ne sono innamorata. Per quanto riguarda invece il libro del mese sto leggendo Il volto ritrovato di Muawad che dirvi questo autore l'ho scoperto grazie a Julie De Mar che ne parla molto molto spesso e molto molto bene è una storia molto molto originale ma mi è perso di capire che questo autore scriva libri solo solo originali in pratica parla di questo ragazzo di questo bambino che a 7 anni assiste ad un attentato terroristico e in un giorno qualsiasi della sua vita dopo qualche anno si ritrova a non riconoscere più i suoi genitori quindi capite bene che percorre dei temi psicologici e l'atmosfera è abbastanza mistica io sono praticamente a metà libro e non vedo l'ora di capire come andrà a finire come si svolgerà la storia come verrà spiegata appunto questa amnesia momentanea se non avete nulla da leggere e vi intriga un po' la trama io ve lo consiglio se qualcuna di voi l'ha letto fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto o meno la categoria cancelliera del mese la saltiamo purtroppo perché non ci sono stati acquisti nuovi non ci sono novità a riguardo e passiamo direttamente alla categoria bullet journal update come sapete in questi due anni di bullet journal ho cambiato un sacco di abitudini e ho cambiato il modo in cui rappresentavo la mia vita su questo quaderno all'inizio ho sempre utilizzato il time tracker giornaliero che se non sai cos'è ti lascio l'episodio di bullet journal in pillole dove ne parlo sia nelle schede che nell'infobox e l'ho sempre utilizzato e mi è sempre piaciuto poi è arrivato un giorno in cui ho sentito di non averne più bisogno e quindi proprio perché il bullet journal è bello per questo posso cambiare quando voglio ho deciso di accantonarlo nel mese di agosto invece proprio perché è stato un mese faticoso volevo capire effettivamente come nella realtà io avessi utilizzato quelle ore quindi ho reinserito il time tracker che in questo momento ha questo aspetto qui io sto usando una delle look che più semplice non esiste quindi data lista delle cose da fare e poi il time tracker con il mio color coding adorato capisco adesso quanto mi fosse utile durante il periodo di stesura tesi devo dire che mi è mancato però appunto se non ti serve non lo uso ma dato che adesso sento proprio il bisogno di averlo sul bullet è cosa buona e giusta averlo reinserito per quanto riguarda lo youtuber del mese ritorniamo al discorso Game of Thrones in pratica questo mese io ho guardato solamente video a tema Game of Thrones reaction commenti discussioni i miei canali mi sono piaciuti di più su tutti il primo canale che voglio consigliarvi è barbascura x allora cioè se volete farvi un po' di risate se volete ridere e vi piace Game of Thrones andate assolutamente a guardare i suoi video riassuntazzo delle puntate da quanto capito è anche pugliese quindi bacione oltre ai riassunti delle puntate di goto troverete anche un sacco di altri riassuntazzi brutti io lo adoro è bravissimo e mi fa divertire un sacco e poi invece l'altro canale che voglio consigliarvi si chiama Kal-El lui è un nerd dalla testa ai piedi adoro ed è super informato su questo mondo ha letto tutti i libri e insomma ne sa davvero tanto quindi se vi interessa il mondo di Game of Thrones ma anche di Harry Potter e in generale il mondo del fantasy sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista cinematografico io vi consiglio di andare a dare un'occhiata ai suoi video sono sicura che se l'argomento vi interessa vi cattureranno prima di concludere il video voglio parlare della categoria cose random allora come vi ho già detto nelle storie di Instagram se non mi seguite su Instagram siete delle brutte bruttissime persone ho fatto degli acquisti cosa molto rara per la sottoscritta perché io odio comprare cose per me stessa odio spendere soldi per me perché mi sento in colpa ma voglio assolutamente consigliarvi questo sito di gioielleria da cui ho comprato queste due collane e questi orecchini è un sito spagnolo spedisce da Barcellona quindi capite bene che ha diciamo dei punti a suo favore nel senso non ci sono pericoli di dogana e soprattutto il vostro ordine arriverà a casa nel giro di una settimana forse anche meno i prezzi sono molto accessibili nonostante i gioielli siano in argento in oro o in oro placcato queste collane per esempio sono in oro placcato e le ho facate 24 euro l'una quindi insomma io credo che i prezzi siano assolutamente convenienti il sito non ve l'ho ancora detto si chiama bylia vi lascio magari il nome qui e il link nell'info box non mi pagano per parlarne ma mi sono trovata davvero molto molto bene e quindi mi sembra giusto consigliarvelo il video è finito spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto un po' compagnia iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per rimanere aggiornati e vi mando un grosso grosso bacio grazie per il supporto noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video ciao